Per notare appuntamenti, pagare i ticket o accedere ai servizi sanitari sarà più facile. Grazie al progetto MyCoopMarket presentato dall'ingegner Stefano De Angelis, direttore esecutivo del CUP e funzionario dell'area Vasta 1, la Regione ha vinto il premio Digital Award 2022. A breve cambierà il nome in Salute Marche e renderà più semplice la vita dei cittadini. Oltre ad un'applicazione che sarà scaricabile sul cellulare da fine giugno, il progetto prevede diversi canali e funzioni che consentiranno agli utenti di accedere in modo pratico e veloce a molti servizi sanitari. La multicanalità è legata alla possibilità di fare delle cose per via telematica o attraverso il computer o attraverso un'app, ma su questo progetto c'erano anche proprio i voice box, i mail box e quant'altro, cioè la possibilità di fare in automatico delle chiamate di monitoraggio al paziente in relazione al suo stato di salute, soprattutto con la pandemia del Covid. In realtà questo progetto nasceva per altri scopi, cioè per poter interloquire relativamente agli appuntamenti. Poi c'è stata di mezzo la pandemia e quindi tutta questa tecnologia che era in fase di sviluppo è stata utilizzata per questa funzionalità. Il discorso chiaramente è legato anche alla tecnologia smart, con la quale chiaramente sarà possibile fare alcune funzioni, alcune funzionalità, alcune tradizionali come la pronotazione, il pagamento delle prestazioni sanitarie, altre più innovative. Che ne so, ci sono degli esami di laboratorio in cui il paziente ha bisogno di avere subito alla risposta e stiamo pensando di far sì che non appena viene firmato il referto, l'app ti dice guarda il tuo referto è pronto e se vuoi puoi accedere attraverso l'app stessa e vederlo, che ne so, pensiamo ai pazienti con l'INR, pensiamo al tampone, pensiamo anche ad altre cose. Inoltre ci sarà la possibilità di utilizzare queste nuove tecnologie per le funzioni di distretto come il cambio del medico di base o l'accesso ai certificati necessari, ad esempio per l'acquisto di determinati medicinali in farmacia. In ogni caso, come precisato anche dal dirigente Claudio Montalbini, i vecchi sistemi verranno mantenuti per evitare che qualcuno possa rimanerne escluso. Rimane il canale tradizionale, quello che sappiamo già, quello che conosciamo bene, che è quello della prenotazione di una prestazione sanitaria piuttosto che del pagamento della prestazione stessa e ancora la riflettazione che viene fatta in loco, quindi presso le sedi distrettuali e poi accanto a questo lasciamo che cresca anche quest'altra strada, che è quella appunto della digitalizzazione e questo a beneficio di chi ha familiarità con questi strumenti, oggi sono tanti perché i nostri smartphone sono pieni di applicazioni di questo tipo e con beneficio anche per chi segue il canale tradizionale, perché ci si immagina che poi porterà comunque a un minor assembramento. Si fa la fila per prenotare, si fa la fila per pagare, si fa la fila per avere il referto. Con questa applicazione si potrà evitare di fare queste tre file. Soddisfatto anche il direttore dell'Area Vassa 1, Romeo Magnoni, che ha evidenziato come il Covid abbia spinto, pure in questo settore, verso il processo di innovazione tecnologica. Quindi sono estremamente felice insieme all'Area Vassa 1, tutti i dipendenti dell'Area Vassa 1, dell'Asur e dell'assessorato alla sanità della Regia Marche, che la nostra regione in qualche modo è riuscita a vincere un premio importante, vista la concorrenza che c'era. Non è che i sistemi futuri cambieranno completamente il volto, sarà un sistema in più che ci permetterà di dare risposte differenti, adeguate ai tempi. Vedi sempre dieci persone, tutte collegate col telefonino, quindi vuol dire che è diventata una cosa fondamentale per tutti, quindi cerchiamo utilizzarla meglio anche per quello che serve.